Arrestato il cappellano del carcere di Enna che cedeva a droga un detenuto. Caltanissetta, hashish e cocaina, trentenne segnalato dalla polizia. Indagini della polizia su un incendio di auto a Caltanissetta. Covid contagia ancora in aumento. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre, 8.857 nuovi casi in Sicilia. Ben trovati a questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo con la notizia dell'arresto del cappellano del carcere di Enna sorpreso a cedere droga a un detenuto. La polizia penitenziaria di Enna, in collaborazione con il nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria, ha tratto in arresto il cappellano del carcere di Enna. Si tratta di Rosario Buccheri, sacerdote che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, che avrebbe ceduto droga a un detenuto nell'istituto penitenziario. La polizia, inoltre, ha effettuato a casa del sacerdote una perquisizione, dove sarebbero state trovate armi e denaro in contanti. Negli scorsi mesi, come riporta l'agenzia Anza, la polizia penitenziaria di Enna aveva avviato un'indagine dopo aver trovato droga durante i controlli dei detenuti. Gli inquirenti continuano ad indagare per fare ulteriore luce sulla vicenda. Un trentenne indagato per maltrattamenti è stato trovato in possesso di hashish e cocaina. Sentiamo i particolari. A Caltanissetta un trentenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dalla polizia di Stato. L'uomo, pregiudicato, era agli arresti domiciliari disposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta per il reato di atti persecutori. Avrebbe nascosto in casa 14 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione, una confezione di mannitolo, sostanza che gli spacciatori usano per tagliare gli stupefacenti, anche una boccetta di popper, sostanza con proprietà tossiche che si assume per inazione, altro materiale per la confezione delle dosi. Questo quanto ritrovato dagli agenti della Polizia di Stato durante la perquisizione domiciliare e quanto sequestrato. Sotto sequestro anche due fucili ad aria compressa detenuti dall'uomo per accertare eventuali modifiche per accentuarne la capacità offensiva. Gli uomini della sezione volanti hanno denunciato il trentenne alla procura della Repubblica Nissena. L'uomo aveva già precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Incendio d'auto nel centro storico. Indagini della Polizia. Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri nel centro storico di Caltanissetta a causa di un'auto che è andata a fuoco. L'episodio si è verificato in via Signorino, nel cuore del quartiere Saccara, dove una Fiat Punto è andata in fiamme. Il veicolo, di proprietà di un 48enne di nazionalità marocchina, ha riportato notevoli danni nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivata la Polizia, che ha iniziato subito le indagini per comprendere con più chiarezza la genesi dell'accaduto. Situazione Covid, contagi in risalita in tutta la Sicilia. I particolari. Aumento di contagi in Sicilia. Lo si evince dal bollettino Covid diramato dalla Regione. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre, infatti, la curva epidemica regionale continua ad aumentare, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L'incremento di nuovi casi positivi è del più 10,04%, con un valore accumulativo di 184 casi sui 100.000 abitanti. Le fasce di età maggiormente a rischio risultano quelle fra i 60 e gli 89 anni. Si segnala, inoltre, un lieve aumento delle nuove ospedalizzazioni. I dati, relativa alla campagna vaccinale diffusi dalla Regione Sicilia, invece, fanno riferimento alla settimana che va dal 5 all'11 ottobre. Hanno effettuato la terza dose, il 72,32% degli eventi diritto. Lo scorso 13 luglio è stata avviata la vaccinazione per la quarta dose agli over 60 e agli over 12 anni con elevata fragilità. Dal 1 marzo, infine, sono state effettuate in Sicilia 126.034 somministrazioni di quarta dose, di cui 119.930 a soggetti over 60. Andiamo a San Cataldo, verso la bonifica del sito minerario di Contrada Bosco. Il sito di Bosco a San Cataldo sarà bonificato a comunicarlo in una nota congiunta il sindaco di San Cataldo, Giacchino Comparato, quello di Mussomeli, Giuseppe Catania, e il sindaco di Serra di Falco, Leonardo Burgio. Proprio l'opera di bonifica eviterà che quel logo sia utilizzato come sito di stoccaggio dell'amianto e di altre sostanze pericolose. Così è stata approvata dalla regione siciliana la proposta di finanza presentata dalla GMRI-SRL denominata Progetto per la rimozione dell'ammasso salino abbancato all'interno dell'area della cessata concessione mineraria per i sali potastici di Contrada Bosco Agro di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, conosciuta come sito Bosco. Notizia giunta tramite una nota qualche giorno fa dall'assessorato regionale delle energie e dei servizi di pubblica utilità con cui è stato dato l'ok alla fattibilità della proposta presentato a giugno 2021 dalla società GMRI-SRL il progetto di finanza prevede un investimento di oltre 10 milioni di euro a totale carico della società proponente 18 mesi di tempo per il completamento delle attività di preparazione e sistemazione dell'area di interesse nella costruzione delle strutture necessarie alla lavorazione e delle relative pertinenze ai servizi e della realizzazione delle opere e dei lavori primari per poter procedere alla coltivazione. Soddisfatti, i tre sindaci hanno dichiarato positive saranno le ricadute economiche, lavorative, ambientali e sociali dell'operazione sul territorio. Quello compiuto è un primo passo dopo l'ammasso sanino non si dovrà procedere anche alla rimozione di tutto l'amianto presente nell'area. Non intendiamo abbassare la guardia. Ad esprimere la propria soddisfazione anche i tanti volontari e le associazioni coinvolte dal Movimento 5 Stelle di San Cataldo e Serra di Falco al gruppo No Serra di Falco, al WWF e ancora al Comitato Letizia e tanti volontari che si sono spesi in questi anni per ottenere una bonifica integrale del sito che hanno seguito la vicenda sin dagli esordi e hanno detto abbiamo lottato a lungo perché si raggiungesse l'obiettivo di non stoccare amianto nella minera Bosco né in quella di Milena e perché si eliminasse una fonte di inquinamento quello della montagna di sale. È stata una lotta dura ma alla fine appagante a dimostrazione che le popolazioni che si impegnano per un nobile scopo sociale spesso vincono le resistenze e le aberrazioni hanno lottato in questi anni per ottenere una bonifica integrale del sito. Dalla regione siciliana fondi per finanziare progetti infrastrutturali, ambientali e della ricerca di acque dolci sotterranee e questo l'obiettivo di un avviso pubblico del Dipartimento regionale dell'Energia rivolto ai comuni siciliani ricadenti nei territori interessati da concessioni di coltivazione di ridrocarburi liquidi e gassosi. A disposizione ci sono circa 24 milioni e 600 mila euro risorse che provengono da compensazioni ambientali e royalties di queste concessioni. I finanziamenti saranno fino al 100% delle spese dei progetti ammessi. I comuni potenzialmente destinati dell'avviso sono tre in provincia di Caltanissetta due in provincia di Catania sette in provincia di Enna due in provincia di Messina tre in provincia di Ragusa e due in provincia di Trapani. Gli enti interessati dovranno presentare istanza tramite PEC all'indirizzo dipartimento.energia1.regione.sicilia.it entro le 12 del 27 ottobre 2022. Nuova iniziativa a Caltanissetta per contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti. Sentiamo i particolari. Avviata la campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono di rifiuti ingombranti in città, Comune Nisseno e Dasti uniscono le forze per combattere il fenomeno. Ci si rivolge ai cittadini, così come è avvenuto nelle settimane passate e anche attraverso dei punti informativi. I prossimi appuntamenti sono sabato 15 ottobre al Mercato Settimanale e domenica 16 in Piazza Falcone Borsellino dalle 10 alle 12. Ogni gesto ha una conseguenza. Prenditi cura del tuo ambiente e non abbandonare i rifiuti. E' questo l'invito che si legge nei manifesti in cui vengono spiegate le modalità di conferimento di ingombranti e rae e anche di residui di potatura, dunque erba e ramaglie, usufruendo gratuitamente dell'isola ecologica mobile nel caso di rifiuti di piccole dimensioni oppure dell'ecocentro comunale che sarebbe il centro di contrada Cammarella o ancora richiedendo senza alcun costo il ritiro a domicilio chiamando il numero 800 164 722 oppure il numero 095 29 38 520 e nel caso di rifiuti organici anche la compostiera è incomodato d'uso gratuito. Abbiamo visto che nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, è aumentato quello che è l'abbandono indiscriminato di rifiuti in tutte le strade della città e non solo, anche nelle strade limitrofe al centro urbano. Questo comporta notevoli disagi all'intero servizio e alla cittadinanza. Stiamo facendo questa campagna proprio a sensibilizzare l'intera cittadinanza a far capire che basta fare una chiamata e prenotarsi per il ritiro degli ingombranti o, considerando anche i tempi che non sono sempre, posso dire purtroppo, che non sono brevissimi, portarli gratuitamente al CCR dai mobili a materiale ferroso, oltre alla carta, alla plastica. Abbiamo la possibilità anche degli sfabriciti se c'è qualche piccolo lavoretto che qualcuno fa a casa, quindi può portare sempre piccole quantità, non parliamo di grosse quantità. Abbiamo gli sfalcipotatura, anche quello, stiamo facendo la campagna proprio sugli sfalcipotatura, perché anche lì abbiamo visto che, considerando le zone limitrofe, la gente fa servizi di giardinaggio e poi va lasciando materiale sparso ovunque. Anche lì abbiamo, tramite prenotazione, il servizio del ritiro porta a porta. Una cosa che però mi preme dire è il fatto che noi ritriamo non grossissime quantità, perché magari la gente si lamenta perché i tempi sono lunghi, sono lunghi perché la gente ci fa trovare camionate di sfalci di potatura. Noi possiamo ritirare piccole quantità in modo da fare più ritiri e dare più servizio possibile alla cittadinanza, perché purtroppo più materiali riusciamo a ritrare e meno ritirere riusciremo a fare. È possibile accedere al CCR di Contrada Cammarella da lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13 e il pomeriggio quando la prenotazione è necessaria solo per la differenziata dalle 14.30 alle 17.30. L'isola ecologica mobile è invece attiva in vari punti della città tutti i giorni da lunedì al sabato dalle 7 alle 14 ed in particolare lunedì in via Maestri del Lavoro, il martedì in Piazza Santa Flavia, il mercoledì a Santa Barbara, il giovedì in via Vittime del 9 luglio, il venerdì in via Fasci Siciliani e il sabato a Pian del Lago. Parcheggio di via Medaglie d'Oro la segnalazione di un cittadino. Ai nostri microfoni l'assessore Marcello Frangiamone. Era luglio quando abbiamo incontrato l'assessore ai lavori pubblici del comune di Caltanissetta Marcello Frangiamone per discutere del parcheggio di via Medaglie d'Oro e delle lamentele di alcuni cittadini sulla modalità di erogazione del resto. Una volta effettuato il pagamento infatti gli utenti si ritrovavano con una ricevuta al posto del resto dovuto con la quale riscuotere la somma una volta recatisi presso l'ufficio. Adesso si torna a parlare del parcheggio ma questa volta di un'altra segnalazione che riguarda due piani più bassi quali si accede dall'altro ingresso del parcheggio e sulla possibilità di migliorarne l'illuminazione soprattutto nelle ore serali. È un unico parcheggio però costituito da due ambienti completamente separati tra di loro c'è un parcheggio che si trova nella parte seminterrata e poi la parte rimanente del parcheggio che è piano terra primo e secondo quello che è alla luce del sole l'ultimo piano e questi due piani non sono mai stati messi in collegamento e quindi vivono pur essendo tutti gestiti dalla stessa azienda vivono un po' separatamente attualmente il bando per la gestione dell'estrice blu che è dell'estrice quindi dei parcheggi a pagamento che comprendeva anche il medaglie d'oro è scaduto siamo in fase di proroga perché si sta provvedendo alla redazione del nuovo bando per appunto per la gestione che dovrà comunque essere dovrà andare diciamo in gara entro fine anno a parte diciamo tutte le già azioni previste dal regolamento quindi sarà mantenuta comunque il pagamento saranno valutati nuovi metodi di pagamento quindi anche dare la possibilità di pagare con carta di credito con altri mezzi elettronici diciamo moderni c'è la volontà di fare in modo che il prossimo gestore abbia il compito il dovere di collegare questi due parcheggi di via di me in modo tale da farne uno unico quindi con un unico accesso e dare la possibilità a chi lo utilizza di provare diciamo di individuare il posto in tutto l'intero parcheggio capita spesso che infatti molte persone non sapendo la differenza tra i due parcheggi magari riempie il parcheggio superiore pensa che non ci sono più posti ma invece in realtà magari sotto ci sono anche dei posti chiaro che anche la parte relativa all'illuminazione alla migliore efficienza dell'intero parcheggio farà parte integrante del bando stesso CGL una delegazione Nissena a Roma CGL in piazza per lavoro e salari un anno dopo l'assalto alla sede nazionale del sindacato in corso d'Italia a Roma proprio il leader della CGL Maurizio Landini dal palco della manifestazione nazionale in piazza del popolo ha dichiarato che la manifestazione è avvenuta affinché venga ascoltato il lavoro e fissato l'obiettivo di riformare il paese per rimettere al centro lavoro diritti giustizia sociale presente la delegazione Nissena noi siamo andati a Roma l'8 ottobre abbiamo manifestato un anno dall'assalto alla sede nazionale non solamente per ricordare e non dimenticare ma per dire delle cose importanti perché l'assalto di un anno fa ha significato una biega violenza a tutto il mondo del lavoro è proprio dal mondo del lavoro che noi dobbiamo partire la centralità del lavoro è fondamentale perché la crisi del mondo del lavoro la crisi sociale ed economica ha portato a quell'assalto porta a logiche di violenza fascista che prendono spazio anche e consenso nella collettività quindi è importante attivare politiche del lavoro che guardino ai diritti dei lavoratori alla lotta alla precarietà alla centralità del lavoro in sicurezza a un sistema fiscale equo a un sistema pensionistico che guardi ai lavori di cura ai lavori alle donne ai lavori gravosi sono quello che noi abbiamo portato a Roma la piattaforma che noi abbiamo definito in un decalogo sono importanti tematiche che poi riportiamo sui nostri territori realizzare attività che immigliorino la relazione tra genitori e figli e promuovano le responsabilità educative questo lo scopo di famiglie al centro l'avviso pubblico a sportello pubblicato dal dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali rivolto agli oratori delle diverse confessioni religiosi civilmente riconosciute che operano in Sicilia la regione siciliana mette a disposizione oltre 78 mila euro per finanziare l'organizzazione la promozione e la realizzazione di uno o più opportunità educative e culturali seguite da un momento di confronto tra genitori e figli su temi specifici inerenti le responsabilità educative il contributo massimo erogabile per ciascuna iniziativa è di 5 mila euro le proposte per partecipare all'avviso vanno inviate entro il 31 ottobre 2022 dal legale rappresentante dell'oratorio via PEC all'indirizzo dipartimento punto famiglia chiocciola gertmail punto regione punto sicilia punto it usando il modello allegato al bando scambio culturale tra Romania e Sicilia un festival a Caltanissetta si terrà sabato 15 e domenica 16 ottobre in corso Umberto il festival scambio culturale e tradizionale Romania e Sicilia con il patrocinio del comune di Caltanissetta la Proloco l'ASIR associazione sociale e culturale emigranti rumeni e il consolato rumeno saranno una due giorni di grande divertimento dove si esibiranno cantanti rumeni e italiani di esposizione dei costumi tradizionali rumeni e di assaggi di piatti tipici presenti alla manifestazione anche i maestri nisseni Lillo De Fraia e Ottavio Miraglia dove presenteranno i loro libri Il dono di un talento e le mie ricette del territorio nisseno questo bellissimo evento il festival scambio culturale Romania-Sicilia abbiamo un po' abbiamo dei prodotti tipici rumeni siciliani appunto in questo scambio abbiamo i cantanti famosi della Romania abbiamo anche i cantanti una sorpresa anche i cantanti italiani qui del posto voglio aggiungere questo festival scambio culturale è organizzato con il sostegno del governo dei rumeni ovunque dipartimento rumeni ovunque governo della Romania in collaborazione anche con il comune di Caltanisseita che vorrei ringraziare al sindaco a tutto il suo staff per questo appoggio che ci danno e che ci sono vicini a noi per organizzare questo evento la regione siciliana tramite il dipartimento della famiglia e delle politiche sociali servizio fragilità e povertà ha disposto l'impegno e la liquidazione ai 55 distretti sociosanitari siciliani di circa 12 milioni di euro per il pagamento del beneficio ai minori disabili gravi e per l'adozione dei piani personalizzati dei maggiorenni con disabilità grave si tratta di parte delle risorse provenienti dal ministero del lavoro e delle politiche sociali come quota di riparto del fondo per le non autosufficienze annualità del 2018 spettante alla Sicilia Erasmus vediamo le iniziative nei diversi istituti della città sono giorni pieni di attività confronti condivisione di idee progetti tra studenti e studentesse di tutta Europa esperienze già vissute in altri paesi che vengono raccontate o ancora tematiche da approfondire ancora di più prima di preparare le valigie e affrontare il viaggio sono tre giorni di grande fermento per le scuole che decidono di aderire agli Erasmus Days diverse le realtà scolastiche del territorio che organizzano nelle tre giornate del 13, 14 e 15 ottobre degli appuntamenti dedicati al programma Erasmus Plus l'Itetra Pisardi da Vinci ad esempio presenta i due progetti della scuola No Bully No Cry per la lotta al bullismo e al cyberbullismo e Code of Youth Shield of Human Rights che parla della dichiarazione dei diritti umani la scuola nissena con l'evento Join Us for Erasmus Days si rivolge agli studenti delle medie nell'auditorium della sede di Via Turati il 14 ottobre gli stessi saranno coinvolti attivamente gli studenti del Rapi Sardi da Vinci infatti interagiranno con i presenti durante la drammatizzazione in lingua inglese si preannunciano anche dei giochi sempre in lingua inglese per riflettere sugli argomenti trattati e ancora musica con la band della scuola nella stessa giornata anche liceo classico linguistico e coreotico Ruggero VII che ha realizzato diversi progetti legati al mondo Erasmus organizza un focus group tra chi ha già vissuto le esperienze e chi invece è in procinto di partire coinvolgendo studenti e studentesse che per lo scambio hanno utilizzato come lingua veicolare l'inglese e il tedesco e ancora tra le scuole che hanno aderito c'è la Carducci di San Cataldo la scuola secondaria di primo grado ha realizzato diversi progetti negli ultimi due anni a novembre ad esempio si concluderà un programma di formazione all'estero dei docenti con la mobilità in Spagna e lo stesso mese partirà un altro progetto rivolto però agli alunni tra oggi e domani dunque 13 e 14 ottobre si prevedono diverse attività durante gli Erasmus Days tra incontri anche con i genitori filmati spot e conferenze ed è stato persino progettato un logo per l'evento che è stato proposto dal docente Leandro Ianni via al pagamento dei ristori agli enti del terzo settore il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha disposto la liquidazione dei contributi la regione siciliana chiamata a procedere all'erogazione dell'importo complessivo di un milione e 395 mila euro ha ripartito un milione e 344 mila euro fra le 330 organizzazioni di volontariato associazioni di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale onlus siciliane che hanno presentato istanza all'avviso 2 2021 pubblicato dal dipartimento regionale e riconosciute aventi diritto la somma restante pari a circa 50 mila euro sarà liquidata alle altre realtà ritenute idonee ma la cui posizione contributiva è in corso di verifica domenica nella chiesa di san pietro la festa in onore di san giovanni ventitresimo il servizio comincia con le 40 ore la settimana a san pietro parrocchia che si prepara a celebrare la festa di san giovanni ventitresimo domenica 16 ottobre con diverse messe durante la giornata e alle 10 quella presieduta dal vescovo della diocesi nissena a san giovanni ventitresimo è stato dedicato anche un busto nell'omonima piazzetta donato nel 2017 dalla parrocchia in occasione del 40esimo anniversario della fondazione della chiesa di san pietro la statua del papa beatificato nel 2000 e canonizzato nel 2014 generalmente si trova vicino al fonte battesimale in prossimità di uno degli ingressi della chiesa e a partire da questo lunedì 10 ottobre è stato spostato sul presbiterio proprio in occasione dei festeggiamenti una comunità parrocchiale legata a san giovanni ventitresimo il papa buono angelo rongalli la parrocchia san pietro di caltanissetta inizia l'anno pastorale con le 40 ore quattro giorni di preghiera dinanzi a Gesù e Eucaristia quattro giorni di riflessione anche sulla lettera pastorale del vescovo l'ultima lettera pastorale l'albero e i frutti mediteremo su quelli che sono i frutti dello spirito santo una giornata particolare che in verità a livello liturgico si celebra l'11 ottobre la data di inizio del concilio vaticano secondo voluto da papa giovanni ventitresimo quest'anno daremo maggiore solennità a questa ricorrenza e proprio a domenica 16 ottobre alla messa delle 10 sarà presente Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto il nostro vescovo la sua presenza qui è legata principalmente al fatto che la diocesi di Caltanissetta scelto quest'anno è proprio di dedicare l'anno al santo Giovanni ventitresimo e quindi la nostra parrocchia dove la devozione per tutta la città di Caltanissetta è particolarmente sentita è particolarmente in festa e vive questa solennità con la presenza del suo pastore del vescovo celebrando il Papa Buono Ducezio Enigma e Utopia l'ultimo libro di Calogero Miciche è stato presentato ieri pomeriggio nella sede della Banca Sicana di Via Francesco Crispi il libro di Calogero Miciche dal titolo Ducezio Enigma e Utopia evento promosso da Società Nissena di Storia Patria e da Sicilia Antica presenti oltre l'autore il presidente della Fondazione Sicana Giuseppe Di Forti Antonio Vitellaro presidente di Storia Patria e Simona Modeo vicepresidente regionale di Sicilia Antica questo nuovo lavoro di Miciche parla del Siculo Ducezio che nella metà del V secolo a.C. mise a dura prova la grecità dell'isola questo volume raccoglie un po' diversi passi dal testo della biblioteca storica di Diodoro Siculo i testi che si riferiscono a un personaggio il Siculo Ducezio che nel ventennio fra il 461 e il 440 a.C. ha avuto sicuramente un ruolo importante nella storia della Sicilia Antica confrontandosi per ragioni politiche ma non soltanto confrontandosi con il mondo greco di allora rappresentato soprattutto dalle colonie di Siracusa e di Agrigento sicuramente in quel momento alla metà del V secolo a.C. le città più potenti della Sicilia è un libro anche importante dal punto di vista scientifico lo facciamo nella linea che ci siamo dati come fondazione sicana e come banga sicana che è quella di agevolare la crescita culturale delle comunità e lo facciamo con una particolare attenzione anche alla storia antica della nostra Sicilia che ha tanto da raccontare stasera appunto ascolteremo un pezzo di questo racconto questo libro è l'ultima fatica letteraria di Calogero Micicè dal titolo Ducezio Enigma e Utopia che prende in esame una delle figure più controverse della storia antica della Sicilia su cui la nostra unica fonte è Diodoro Siculo che a questo personaggio dedica alcuni capitoli dei libri undicesimo e dodicesimo della sua biblioteca storica ovviamente è un personaggio importante perché è proprio un momento storico in cui i siculi indigeni per la prima volta si ribellano contro il mondo greco e riescono in una prima fase in un primo momento a vincere anche se poi purtroppo l'epilogo per Ducezio non sarà positivo perché verrà scolvitto da greci appunto e dei reci di Siracusa e di Akragas e poi ovviamente troverà la morte a causa di una malattia terzo appuntamento con la settantesima stagione concertistica promossa dall'associazione Amici della Musica di Caltanissetta venerdì 14 ottobre alle 18 e 15 nell'auditorium del liceo musicale Manzoni Iuvara di Caltanissetta con ingresso libero protagonisti del concerto il trio formato dai flauti Calogero Randazzo e Giuseppina Tuminaro e da Gianluigi Talluto al pianoforte e passiamo allo sport Coppa Italia la corsa della Nissa si ferma agli ottavi di finale dopo la sconfitta per 5 a 2 sul campo dell'Akragas la Nissa si ferma ammestamente agli ottavi di finale di Coppa Italia dell'eccellenza pesante la sconfitta dei biancoscudati ad opera dell'Akragas 5 a 2 nella gara di ritorno all'esseneto di Agrigento gli akragantini hanno sciupato anche un calcio di rigore nei minuti iniziali della partita con Mansur primo gol dell'Akragas all'undicesimo con Pavisic sul 1 a 0 sull'1 a 0 i nisseni tentano più volte la via del pari che ottengono al 46esimo con un gran gol di Azzara l'Akragas accuse il colpo ma nella ripresa segna la seconda rete al 64esimo con Semenzin il 2 a 1 rinvigorisce i locali che al 71esimo vanno in gol ancora con Pavisic autore di una doppietta al 75esimo Ortis riapre la partita ma nel finale l'Akragas dilaga con Mansur all'85esimo e Garufo pochi minuti dopo su penalty parla Angelo Azzara sulla pagina Facebook della Nissa guardando il risultato per noi è una brutta partita abbiamo fatto un ottimo primo tempo l'abbiamo tenuta fino al 3 a 2 poi abbiamo seguito il quarto e il quinto gol e ci siamo tagliate le gambe da solo sarà dunque l'Akragas ad accedere ai quarti di finale il quadro completo dei risultati Akragas Nissa 5 a 2 Don Carlo Enna 2 a 0 ai rigori 3 a 2 Leonzio Taormina 0 a 3 a Tavolino Modica Comiso 1 a 1 ai rigori 8 a 9 Parmonval Resultana 2 a 3 Rocca Quedolcese Nuova Igea 2 a 3 Siracusa Palazzolo 2 a 0 Sciacca Mazzarese 2 a 1 Passano il turno Acragas Don Carlo Resultana Mazzarese Comiso Nuova Igea Siracusa e Taormina Bene Per questa edizione è tutto Vi ringraziamo per essere stati con noi Vi lascio al meteo e alle notizie di pubblico utilità Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Grazie a tutti